ciao a tutti oggi vi presento questo libro fresco di stampa appena uscito proprio in questi giorni e già presente nelle librerie e sui principali siti online si tratta di un manuale pratico la tecnica dell'incisione su vetro con mini trapano impariamo a scrivere disegnare sul vetro è una tecnica semplice economica alla portata di tutti che non prevede l'utilizzo di materiali chimici ma lavora direttamente con un mini trapano e fresine diamantate dopo una breve introduzione storica si passa a un'analisi seppur breve e semplice dei principali mini trapano in commercio inoltre vengono indicate le frese diamantate più utilizzate più comode da usare proprio per questo tipo di lavori come vediamo si tratta di un costo molto contenuto e il libro è ricco anche di esempi pratici in particolare come decorare personalizzare rendere unici bicchieri anche verranno descritti vari tipi di bicchieri quelli più o meno adatti bottiglie anche intere quindi piene piuttosto che oggetti in vetro di vario tipo vetri colorati e specchi come si può vedere è ricco di fotografie tutte a colori vengono dati consigli pratici su vari aspetti dell'incisione su vetro seguendo passo passo questi esempi si possono ottenere dei risultati davvero speciali nel caso appunto vi interessi questo libro lo potrete trovare direttamente dall'editore sandit oppure sui principali marketplace amazon e bs sono tanta pagine ricche di consigli e suggerimenti proprio per rendere unici i nostri oggetti di uso quotidiano vi ringrazio per l'attenzione spero che siate interessati all'acquisto di questo libro vi aspetto per i prossimi video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi anche al nostro canale youtube elettronica didattica per restare sempre aggiornati su tante novità e tanti video interessanti ciao a tutti a presto ciao a tutti ciao a tutti